Io ho sentito il dovere di scrivere una lettera aperta destinata in primis alla vostra testata proprio perché alla luce del video che avete pubblicato credo che come assessore alle politiche giovanili un intervento verrà necessario, dovuto perché credo che proprio nelle considerazioni delle tante attività che stiamo portando avanti negli ultimi anni per cercare di dare ai giovani e alle giovani degli spazi protetti, dei luoghi di confronto, delle iniziative per fornire loro un luogo per potersi incontrare e per poter parlare, vedere che comunque il disagio giovanile che in quel video si manifesta in un aspetto specifico per quello della violenza ci porta a dover guardare proprio il problema in faccia. Per questo ho voluto richiamare proprio il tema dell'educazione e soprattutto della corresponsabilità che la comunità ha nei confronti delle giovani e dei giovani. Dal mio punto di vista, ecco, continua a esserci la massima disponibilità. Ho fornito il mio indirizzo email se i ragazzi vogliono scrivermi, vogliono parlare perché credo che in questa realtà odierna dove tutto è una rincorsa alla competizione tutto è una gara a chi deve essere il primo lasciare indietro qualcuno significa portarlo all'interno di un circuito che non sempre è quello che porta a delle cose belle e sensate soprattutto. Ho richiamato anche il tema del disagio giovanile proprio perché i dati allarmanti vengono proprio dall'ASP, continuano ad aumentare il numero di giovani che frequentano purtroppo sono sotto l'occhio del CERD, sotto le cure del CERD, il disagio mentale è sempre più dilagante e i ragazzi stessi lo sentono come una loro necessità doverne parlare e dover sdoganare tutte quelle difficoltà a poterlo fare e rendere pubblico. Per cui, come credo nel mio stile, continuo a rendermi disponibile per l'ascolto, per cercare di migliorare sempre di più quelli che sono i servizi che provengono dal mio assessorato alle politiche giovanili e cercare di dare una mano perché il futuro delle nostre città che è anche il presente delle nostre città non può prescindere dall'impegno che noi adulti insieme alla comunità profondiamo verso i nostri giovani.